Seppur tra le tante difficoltà dettate dalla pandemia, in modalità online si è svolto l'incontro tra i rappresentanti sindacali, territoriali e i lavoratori di Brioni Roman Style. In questo frangente le rappresentanze di Wiltek, Wilt, Femka Cisle e Filtem Cingielle hanno illustrato la situazione circa 1.200 dipendenti, riportando le decisioni prese dall'azienda, ovvero la razionalizzazione dei costi e il ridimensionamento dei tre stabilimenti dell'area vestina che sfocerebbero nel taglio di 320 dipendenti. Allora la situazione è molto tesa, i lavoratori sono preoccupati per il loro futuro. Ovviamente noi non abbiamo altre novità perché siamo rimasti i tavoli fino a non ancora aprire, siamo convinti di creare un percorso, anche noi puntiamo molto sul rilancio di questa azienda, perché gli ammortizzatori sociali gestiamo la situazione al momento ma il piano industriale è la parte fondamentale perché lì c'è un piano industriale che prevede un futuro. Quindi noi vogliamo che l'azienda si impegni realmente questa volta a creare le condizioni per il rilancio reale perché fino adesso non c'è stato e gli operai hanno pagato molto questo scotto. È chiaro che il percorso che ci siamo stabiliti di fare è quello giusto, creare tutti gli strumenti che siano atti a dare un impatto sociale meno pesante e quindi trovare con l'aiuto delle istituzioni, quindi ribadiamo che la regione sia sul tavolo per come c'è stata fino adesso, quindi anche nel futuro, per trovare tutti quelli che sono gli strumenti atti a ridurre sia il numero degli esuberi così come l'impatto sociale. Intanto presso il Mise Ministero dello Sviluppo Economico si è tenuto un incontro sulla crisi del settore moda causata proprio dalla pandemia a cui ha partecipato anche il Ministro Giorgetti. In questo tavolo di confronto proprio il Ministro ha deciso di attivare presso il Mise un tavolo della moda permanente. Inoltre con il Ministero del Lavoro è stata convenuta invece una convocazione urgente per la proroga della cassa covid per il settore a tutto il 2021. Le nostre segreterie nazionali hanno chiesto che per la moda venga prolungata la possibilità di utilizzare la cassa integrazione per covid, quindi se ci fosse questa possibilità e quindi chiediamo che ci sia questa possibilità aiuterebbe a gestire meglio la situazione. Per quanto riguarda l'Assemblea è stata molto partecipata e ci sono state molte domande ovviamente le persone sono comunque consapevoli adesso della situazione, non è stato facile coinvolgerle però adesso abbiamo uno strumento per coinvolgerle continuamente.